no 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 guarda questa figa proprio non mi piace a quello fatto il capello destro un pochino storto ma no no i piedi sono leggermente sporgenti verso destra ma cosa siete siete tutti sommelier siete tutti sommelier cosa 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 è per degli occhi a mezza luna e una mandibola un po' in fuori vi chiamate cioè vorrei vedere vorrei vedere chi di voi quanti di voi vanno ricercano la perfezione assoluta che poi anche la perfezione di masseo io sì e anche la perfezione assoluta comunque è bella per voi a me può faccare e viceversa sì ce l'ho qualche problema masseo assolutamente sì masseo è un sommelier della figa però però attenzione attenzione edo il masseo è un sommelier della figa dice di essere un sommelier della figa però all'atto pratico lo è veramente perché non è che lo dice lo dice e poi vedi che esce con 46 ragazze al mese no vuol dire che effettivamente lo è masseo stream steve ti riesce gioca fifa e 21 scopa la figa coronaldo tra l'altro il fenomeno e ti piacciono gli uomini non c'è luna di male nanni guarda masseo non so se mi stai facendo un avance mi sento anche un po mi sento se stai flirtando con me edo io a me non piacciono in realtà gli uomini dal punto di vista sessuale però per te potrei potrei farci un pensierino ecco se me lo stai chiedendo così pubblicamente mi fa piacere che tu prenda iniziativa e ti esponga così tanto ti ti ringrazio per per l'interesse grazie edo sono sono orato le cosce sono un botto sottovalutato anche secondo me le cosce sono il punto più sensuale di una donna nanni in svizzera is possible tegamino ma è un clickbait oh 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 ma che tier list di merda è poche live di merda mamma mia ho mi svegliati